Le fiamme gialle Le fiamme gialle E sulla disoccupazione In Calabria dice Esiste una situazione da dopoguerra Tocci bronzo mondiale Il campione di tuffi a Budapest Conferma tutto il suo talento E si aggiudica il podio del trampolino da un metro Grazie ad una magnifica performance La Calabria gioisce con lui Ancora buona lunedì Dalla redazione di Laci News 24 Benvenuti ad un'altra edizione Della nostra informazione In primo piano la bufera giudiziaria Che si è abbattuta Sull'ASP di Catanzaro Nove indagati Sette misure cautelari L'ipotesi di reato e il peculato Soldi pubblici destinati All'ASP di Catanzaro Per il progetto Stop and Go Per migliorare la qualità della vita di anziani Che necessitano di assistenza domiciliare Spesi invece per fini personali Talvolta anche per vacanze all'estero E la quarta indagine Che riguarda la pubblica amministrazione Nell'ultimo anno Da quando il procuratore Nicola Gratteri E a Catanzaro Quella che questa mattina ha portato Agli arresti domiciliari di due dirigenti Dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Giuseppe Romano e Ieso Rocca E alla sospensione dal servizio Per un anno di altri sette Tra dirigenti e funzionari Indagati per concorso Impeculato, aggravato E favoreggiamento personale E al sequestro di 300 mila euro Finanziamenti destinati agli anziani Che questi soggetti hanno rubato Sì, ci ha colpito Perché si trattava di un progetto Con fondi europei Destinati a migliorare la qualità della vita Degli anziani Che si curano a casa Informatizzando l'assistenza agli anziani Quindi ci ha particolarmente colpito E da una parte è disgustato E da una parte è disgustato A capire questa arroganza Questa spregiudicatezza Nel utilizzare fondi europei Destinati agli anziani Per poi andare ad esempio con la famiglia Andare in Spagna a villeggiare Noi abbiamo fatto ovviamente La richiesta in carcere Per tre degli anziani indagati E quattro resti domiciliari Valuteremo in concreto Le motivazioni Seguiremo anche Gli interrogatori Di convalida Vedremo poi Valuteremo il da farsi La Guardia di Finanza È un corpo di polizia economico Fiscale Ad alta vocazione sociale In questo caso io penso Che abbiamo dimostrato La vocazione sociale Della Guardia di Finanza La vocazione sociale Della Procura Abbiamo preso dei soldi Che dovevano andare Gli anziani E sono stati dirottati Verso tasche non proprie E li abbiamo ripresi Con un sequestro Di 300 mila euro Io penso che questo sia Il miglior segnale La miglior dimostrazione Di quello che vogliamo fare Che vuole fare la Procura Insieme alla Guardia di Finanza Indagini pubbliche e amministrazione Sono indagini difficili La qualità degli investigatori Sicuramente si è elevata In questo caso abbiamo verificato Addirittura attraverso Intercettazioni telefoniche Che quelle pezze giustificative Così venivano chiamate Degli stessi indagati Che servivano a supporto Della legittimazione Del lavoro Venivano realizzate ex post Quindi evidentemente In assenza di questo dato Importantissimo Quel dato intercettivo Noi avremmo trovato Una documentazione Che forse Avrebbe potuto ingannare chiunque Ma grazie A queste Che possiamo definire Tra virgolette Confessioni stragiudiziali Perché erano Ci si metteva a tavolino E si decideva Quante ore Bisognava far risultare In quel giorno Quante ore In quell'altro giorno E addirittura Si proponeva Per i futuri progetti Di adeguare il compenso Non ad orario Ma ad obiettivo Dicendo che così Era più facile Mascherare Il compenso ottenuto Rossella Galati Per la CNews 24 E adesso la svolta Investigativa Che la stessa DDA di Catanzaro Grazie anche Alla collaborazione Di alcuni pentiti Ha dato Alle indagini Antimafia Sul Vibonese Vengono infatti Strappati Dall'oblio Numerosi delitti E casi di lupara bianca Sin qui impuniti Un'andrangheta di serie A Che è stata Per decenni Colpevolmente Sottovalutata O non capita Anche dalla magistratura Anche delle forze Dell'ordine Dice bene Il procuratore Capo di Catanzaro C'è stata sottovalutazione Anche da parte Dei magistrati E delle forze Dell'ordine Perfino Dei morti ammazzati Si era persa memoria Si era persa memoria Prima dell'operazione Outset Ad esempio Di Mario Franzoni Giuseppe Pugliese Carchedi Eliminati nel 2002 E nel 2006 Alcuni Come Mario Longo Assassinato l'1 aprile 2012 Spesso non venivano Neppure computati Nel ripilogo Di una guerra di mafia Come quella Che i Piscopisani Ingaggiarono Con i Mancuso Altri delitti Come l'omicidio Di Michele Palumbo Il faccendiere Del super boss Luni Scarpuni La cui uccisione Fu il primo atto Di guerra Dei Piscopisani Verso gli stessi Mancuso Non furono proprio capiti Nella loro portata Ora tutto Invece Viene alla luce Grazie alla collaborazione Dei nuovi pentiti L'ex padrino emergente Andrea Mantella L'ex sicario Raffaele Moscato Tutto esce fuori Dal cono d'ombra E dall'ublio Anche le vittime Di Lupara Bianca Dalla metà degli anni 90 Ad oggi Dal primo Nicolò Lobianco Sparito nel 1997 Fino all'ultimo Massimo Stanganello Un giovane di Vibo Marina Che fecero diventare Fantasma nel 2008 In mezzo Tante vittime Delle quali pentiti Potrebbero dire molto Giuseppe Caserta Scomparso nel 1998 Salvatore Ruggero Che sparì nel 2001 Così come Filippo Gangitano Meglio conosciuto Come il Picciotto Una nuova azione Antimafia Per rendere giustizia A tutti i cadaveri Dimenticati A chiunque appartengano Davibo Valencia Per la Cignus 24 Il maltempo E la tanta Tantissima paura Vissuta soprattutto Nel Regino Vissuta soprattutto A Scilla Dove stamattina Per fare il punto Si è portato Il capo Della protezione civile Regionale Carlo Tanzi Ci eravamo anche noi Sono stati molto bravi Molto efficienti Guardi Ieri era un macello Hanno pulito tutto Stanno pulendo Sono Ammirata Devo dire Dall'organizzazione Perfetta Bravissimi Bravissimi Scilla si rialza Con vigore Dopo l'alluviene Lampo Che ha messo in ginocchio La perla della costa viola Già poche ore dopo Il nubifraggio Uomini della protezione civile Dell'esercito Sono giunti Per spalare le strade Dal fango Le operazioni Sono proseguite Con ruspe e camion Che hanno liberato Il lungomare Da detriti Portati dai torrenti Negli occhi dei turisti Però Resta la paura Per quanto vissuto Il giorno prima È stato Insomma Una tempesta brutta Però Dalla montagna È sceso di tutto Fango Che sembra ad essere In un'alluvione Tipo Sarno Intanto c'è il sole Non piove più Abbiamo l'esercito Che sta sgombrando Speriamo che ci riporti Quasi alla normalità Ero in apprezzione Sono arrivato ieri pomeriggio In treno E sono stato molto sorpreso Quando sono venuto qui Si mostra molto soddisfatto Il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone Cioè il mondo Si è mosso Per aiutare la mia città E quindi non posso Che essere contento Nella disgrazia Di quello che è successo Il lungomare È quasi apposta Abbiamo un problema Su una roccia Nella montagna Di sottovertigine Che è importante Ma stiamo già provvedendo Quindi nel giro di 48 ore Abbiamo ridato L'immagine giusta Al mio paese Che serve Che è importante Per continuare a fare Quello che stavamo facendo Cioè Una stagione eccezionale Di turismo Nella città di Scilla Consolato Minniti Per la Cineus 24 Ho trovato la solita situazione La colpa è dell'uomo Perché qua Praticamente Il fenomeno La grande colata Che ieri è arrivata Fino a mare È partita dalla sopra Ha portato tutto questo detrito No? E come vediamo Questo aereo Ha un fiume Che era molto largo All'origine Poi è stato ristretto Progressivamente Prima in questi tubi Che sono assolutamente Insufficienti E poi se andiamo più avanti Un po' più avanti Questo Questo fiume Ecco È una cosa assurda Che viene canalizzato In quelle griglie È chiaro che quelle griglie Non possono prendere Recepire portate Di un fiume Che è ben oltre Le capacità di drenare Di quelle griglie E quindi tutta l'acqua Anziché intubarsi In quelle griglie Tra le altre cose A cui sono sottese Diciamo Tubi assolutamente Insufficienti Va in superficie Si canalizza Questo flusso Di fango E detrito E arriva fino a mare E può ammazzare Tutte le persone Quindi questa situazione Va assolutamente risolta Poi vediamo A monte Ci stanno anche Delle aree bruciate Quando il terreno Viene bruciato Dagli incendi Si crea una patina Una di cenere Che è impermeabile E quindi a monte L'acqua non penetra E quindi finisce Tutto in superficie E prende con sé Tutto il materiale Che non ha più Apparato radicale A causa dell'incendio E tutto questo materiale Crea una grande Colata di detrito E se qua ieri Fosse stato Qualche ora più tardi Avrebbe fatto anche Male Consolato Minniti Per la C News 24 La politica Il giorno Di Matteo Salvini In Calabria Il suo tour Si è concentrato Nel Vibonese Dove il leader Politico Ha inaugurato La sede Del suo movimento Il suo viaggio Proseguirà Lungo tutta La provincia Di Vibbo Valencia A Vibbo Marina A Briatico E anche a Tropea Vi racconteremo tutto Nel corso Dei prossimi appuntamenti Della nostra informazione Intanto però Ai nostri microfoni Lo stesso Salvini Ha parlato Di emergenza migranti Ed occupazione Sentite Una donna E un bambino Che scappano Dalle bombe Dell'Isis Non devono arrivare qua Col canotto Sgonfio Rischiando di annegare Arrivano in aereo In prima classe E glielo paghiamo noi Il biglietto Quel 10% Di persone Che scappano L'altro 90% Giustamente I francesi Dicono Non li vogliamo I tedeschi Non li vogliamo Gli spagnoli Non li vogliamo E l'Italia E l'Italia Cos'è un campo Profughi E quindi Accogliere Dignitosamente Chi scappa Dalla guerra E riaccompagnare Altrettanto Dignitosamente Chi non scappa Nessuna guerra Anche perché La situazione economica In Italia In Calabria In particolare È da Dopoguerra Perché disoccupazione Giovanile Al 60% In provincia di Vibo O un tasso Di occupazione Che non arriva Al 40% Nelle altre province Calabresi Sono dati Post bellici Da post Prima o seconda Guerra mondiale C'è una guerra Economica in corso Scatenata Dall'Europa Dalle multinazionali Dalla moneta unica Sbagliata Bene Diamo una mano Agli italiani E ai calabresi Non possiamo ospitare Mezzomondo Nel momento in cui La metà dei ragazzi Calabresi Se vogliono lavorare Devono scappare In Calabria Nei giorni scorsi Anche il giornalista Di Rai 1 Paolo Di Gianantonio Abbiamo incontrato Anche lui È stato assoverato Nei giorni scorsi Il giornalista Conduttore di Rai 1 E inviato di guerra Paolo Di Gianantonio Una permanenza Durata qualche giorno Che ha permesso Al noto volto televisivo Di apprezzare Ancora una volta I sapori E i luoghi di Calabria Come la trova questa terra? Ho trovato Un assoverato In salute Io ci vengo Spesso E un assoverato In forma Con Una opportunità Noi italiani Naturalmente I calabresi Che sono votati Proprio a una missione Turistica Abbiamo la possibilità Di tradurre Positivamente Quello che di negativo Sta accadendo Nel Mediterraneo Cioè I turisti Non vanno più Nel Nord Africa Non vanno più In Medio Oriente E c'è questa voglia Di sole Di mare Di esotismo Che sulle nostre coste C'è Qui mi sembra Che i numeri Istituzionali Rossella Galati All'interno dell'ex Comac Un'area di circa 1500 metri quadrati Che da ex fabbrica Nel cuore della città Dallo scorso anno È diventata Un contenitore Di eventi E manifestazioni Questa Comac Ha un fascino particolare È bella All'aperto Ha un fascino strutturale Rievoca Un passato industriale È vicino al lungomare È chiusa Secondo me È l'ideale Per fare questo tipo Di manifestazioni La Proloco di Soverato Ha così dato il via Ad una serie di appuntamenti Che si inseriscono Nel ricco cartellone Dell'estate soveratese È la prima sacra Che si fa A Soverato Sarà una serie Di lunghi eventi Devo ringraziare ovviamente Il presidente della Proloco Pietro Melia E tutti il resto Del consiglio direttivo E tutti quelli della Proloco Che hanno collaborato Ovviamente E hanno lavorato tanto Per la riuscita Di questa manifestazione Rossella Galati Per l'AC News 24 A Reggio Calabria invece Musica sotto le stelle All'interno della terrazza Proprio del Museo Archeologico Nazionale L'Atmosfera L'Atmosfera è quella degli anni venti Lo scenario è una finestra Sullo stretto di Messina Mentre la musica È quella dei Glam Pop Quartet Gli ingredienti per il successo Ci sono tutti Nel primo concerto Sulla terrazza Del Museo Archeologico Nazionale Regino Che apre ufficialmente Gli eventi estivi Dedicati all'intrattenimento Da un lato La visita museale E dall'altro La musica dal vivo Una formula che è piaciuta Agli oltre 500 visitatori Di Palazzo Piacentini Una fruizione rinnovata Per la terrazza del Marche Incorriciata dalla voce Di Katia Porcino Dalle chitarre Di Roberto Machede E Antonio Barresi E dal basso Di Crispino Mangano Dal pop al blues Dal solo al jazz Il repertorio E quello dei grandi successi Giovedì ispirati alla cultura E sabati alla musica Per rivoluzionare il concetto di museo E avvicinare sempre più Un pubblico variegato Dominella Trunfio Per la Cineos 24 E la musica Sempre a Reggio Continua ad unire Sempre di più La Calabria E il Brasile Voce possente Ritmo brasiliano Nell'anima Maria Gadù Canta e riva allo stretto In un concerto unico Nel Meridione Che abbraccia migliaia di fan Arrivati da tutto il sud E non solo All'arena Sventolano bandiere carioca Simbolo della comunità sudamericana Una serata magica Nella terza tappa Di Reggio Chiama Rio Il festival internazionale Realizzato grazie alla collaborazione Tra Alziamo il sipario La kermesse Dell'amministrazione regina E i fatti di musica Del promotero Ruggero Pegna Con sonorità decise E ritmo istrionico La stella della musica brasiliana Ha regalato tantissime emozioni Vecchi e nuovi successi Beast finali Foto e autografi E tutti i fan La Gadù Figlia della celebre cantante Maisa Già disco d'oro Nel 2010 Dal palco ha lanciato Un appello contro l'omofobia Dedicando al tema Uno dei suoi brani Sei album all'attivo Da Maria Gadù A Guela Candidato ai Grammy La cantante è arrivata Al cuore di tutti Con il singolo Shimbalaye In classifica Al primo posto Per ben cinque settimane Alla fine del concerto Ha ricevuto Il riccio d'argento Del maestro Gerardo Sacco Che premia I migliori live Ho provato cose speciali Sono proprio emozionata È stata una notte bellissima Una bella serata davvero Una bella città Tominella Trunfio Per la Cineos 24 Lina Sastri Al terzo appuntamento Al festival internazionale Ruggero Leoncavallo Di Montalto Fugo Sul palcoscenico De Leoncavallo È giunta Una lina Sastri In forma smagliante Coinvolgente Il suo spettacolo Appunti di viaggio Un racconto intimo E profondo Della vita Dell'artista Pezzi di teatro Balli Canzoni Del repertorio napoletano Hanno illuminato la scena Riempita dalla naturale scenografia Della maestosa cattedrale E dalla musica Della piccola orchestra Di accompagnamento Dina Sastri Ha raccontato se stessa Instaurando con il pubblico Nutrito di Montalto Fugo Una sintonia immediata Devo dire che i risultati Sono molto soddisfacenti Abbiamo deciso Di investire molto Sulla qualità Degli artisti Per caratterizzare Questo festival I nomi ci sono Sono tutti quanti I nomi importanti La risposta del pubblico Credo che sia sintomatica Del fatto che non ci siamo sbagliati Essere partiti Con questo cartellone Al mese di luglio In anticipo Rispetto un po' A tutte le realtà Della Calabria Significa avere saputo programmare Salvatore Bruno Per la Cineuso 24 E tra gli eventi Invece che aglieteranno L'estate calabresse Dal 21 al 29 luglio Il Calabra Blues Passion Festival musicale In memoria di Marco Fiume Le calde note del blues Pronte ad invadere la Calabria Nel ricordo di Marco Fiume Giovane rossanese Virtuoso della chitarra Partito giovanissimo Verso gli Stati Uniti E divenuto in breve tempo Uno dei musicisti Più richiesto Della West Coast Il Calabria Blues Passion Il quindicesimo Memorial Marco Fiume Si articolerà in quattro serate Per un totale di otto concerti Di grande qualità L'iniziativa è stata presentata Nel corso di una conferenza stampa Coordinata dal giornalista Marco Le Fosse Ed ospitata nell'auditorium Alessandro Amarelli Maria Giulia Sorrentino Presidente dell'Associazione Musicale Marco Fiume Ha illustrato il programma Si comincia da Rossano Il 21 luglio Con il concerto Di una band palermitana Agli 091 Reduci Dal successo Ottenuto al Blues In Di Pistoia A seguire Spazio a Matthew Lee Estroso e coinvolgente Tastierista Il programma rossanese Si completerà il 22 luglio Con il Blues Sanguigno Del sardo Francesco Piu E con la X-Gem Di Luca Giometti Il 23 luglio La Kermesse Si sposterà Nella suggestiva cornice Del parco archeologico Di Sibavi Con la cantante Nigeriana Jane Gereza E l'americano Shaw Jones Infine il 29 luglio L'ultima tappa Del festival Sul lungomare Centofontane Di Crocia Con The Blues Queen E Levi Parham Cantante dell'Oklahoma Con band olandese Alla presentazione Sono intervenuti Giuseppe Graziano In rappresentanza Del consiglio regionale Che patrocina l'evento E Rossella Sivianni Di Enel Main sponsor Della manifestazione Tutti i concerti Sono gratuiti Salvatore Bruno Per la Cineus 24 Siamo adesso allo sport L'Italia Torna sul podio Dei mondiali Di tuffi Gradino Più basso Dello stesso podio Ma medaglia Di bronzo Per il calabresissimo Giovanni Tocci Non è nuova Questo tipo di imprese Ma con la medaglia Di bronzo Ai mondiali di Budapest Giovanni Tocci Supera se stesso Portando in alto Non solo il nome Dell'Italia Ma della Calabria In modo particolare Il 22enne Tuffatore Cosentino Tesserato con il cosenza nuoto E l'esercito E' stato superato Solo dei cinesi Portando comunque a casa La sua prima medaglia Internazionale In carriera Il terzo posto Dal trampolino Di un metro E' un traguardo strepitoso Per Tocci E tutto il paese Che aspettava Un podio maschile Dal 2007 Dai tempi Di Christopher Sakhin Dopo il bronzo Di Elena Bertocchi Arriva dunque Quello targato Tocci Firmando un'impresa Quasi storica Il Cosentino Si piazza Solo i 4 punti Dalla medaglia d'oro E azzurra Buona partenza Nel terzo salto Doppio e mezzo Indietro raggruppato Tocci però commette Un piccolo errore In entrata Che gli costa Due posizioni Ma il Cosentino Non sbaglia L'ultimo tuffo Triplo e mezzo Avanti raggruppato Conquistando quindi Il gradino Più basso del podio Dopo l'argento E l'europeo di Londra 2016 Sempre nel trampolino Di un metro Per Tocci Questa è la sua Prima medaglia In una competizione Internazionale Maria Chiara Sigillò Per la CNews 24 E adesso La palla a nuoto Novità importanti Di mercato Per il città di Cosenza Annunciato E subito arrivato Il città di Cosenza Piazza il primo colpo Di mercato Si tratta Della russa Svetrana Cusina Un acquisto tattico Da parte Della società Abruzia La giocatrice Infatti Arriva da Messina Una compaggina Ormai ben conosciuta Che ha particolarmente Brillato Nella precedente stagione E che ha anche Messo in difficoltà Il città di Cosenza In più occasioni Tra campionato E Coppa Italia La Cusina arriva Con un buon bagaglio 32 le reti Messe a segno In 18 gare disputate Rappresentano Più di una base Sulla quale ripartire Per l'allenatore Ligure Capanna Riconfermato Alla guida Della squadra La Cusina Ha le giuste capacità Diversi I ruoli E' in grado Di difendere E attaccare In maniera incisiva E' dotata Di grande tiro E ottima lettura Delle situazioni Di gioco Il suo innesso E' stato accolto Con grande soddisfazione Del presidente Mann Che ha particolarmente apprezzato La disponibilità E la voglia Della giocatrice Di trasferirsi a Cosenza Per intraprendere Una nuova avventura Questo acquisto Conferma Le idee della società Lavorare Incastrando i giusti tasselli Per costruire Una squadra competitiva Si attendono Altre novità Nelle prossime ore Maria Chiara Sigillò Per la C News 24 Non ci sono altri aggiornamenti Torneremo ad informarvi Come sapete Alle 16.30 Grazie Grazie